Cambiamo ancora una volta argomento, le alte temperature degli ultimi giorni sono il segno di un'estate che si preannuncia molto calda. Ecco alcune regole a tavola per affrontarla nei migliori dei modi. Seguiamo Sofia Dinolfo. Un'estate sempre più calda ed imponente è quella che si sta avvicinando e occorre già fare ricorso e rimedi che ci consentiranno di affrontarla nei migliori dei modi. Una sana alimentazione senza dubbio ci aiuterà a sentirci meglio. Se in inverno al nostro organismo occorrono molte calorie per vincere freddo e basse temperature, in estate bisogna invece mangiare sicuramente meno. Occorre infatti rivedere subito il proprio fabbisogno calorico che va sicuramente ridotto, a volte anche drasticamente perché il caldo genera la riduzione del nostro metabolismo basale. Dunque meno calorie ma anche e soprattutto calorie diverse. Così al posto di pietanze ricche in sughi e grassi occorre privilegiare cibi freschi e leggeri che oltre ad apportare meno calorie impegnino in misura minore il nostro organismo già di per sé affaticato da canicola e sudore. Una dieta fatta a base di alimenti che siano ricchi di acqua. Quindi è una dieta che contenga molta verdura, molta frutta. È una dieta che contiene pochi grassi. È sempre consigliabile mangiare pesce, molto pesce e molta carne bianca. Con particolare riferimento alla frutta e alla verdura. Quello che consiglio soprattutto alle persone anziane è di bere molta acqua, almeno due litri, anche se non si ha lo stimolo della sete. Questo serve per evitare i seri problemi cardiocircolatori. È consigliabile mangiare il gelato? Sì, è consigliabile mangiare il gelato. Sia perché contiene molti acidi grassi polinsaturi che fanno bene alla circolazione, sia perché è un buon alimento fresco. È un alimento che fa funzionare bene il nostro metabolismo basale. Dunque basterà tenersi a questi semplici consigli e sarà possibile affrontare meglio l'estate 2011.